la faccio qua prima allora inizia la salita di Lumini ragazzi e c'è molta c'è molta allegria come vedete qua siamo nella coda del gruppo Savoldelli deve ancora partire dietro con la moto e come vedete i velocisti qua sono felici ma riuscirete ad arrivare su nel tempo massimo si avete calcolato i tempi della salita bene bene allora vado avanti con che rapporto state andando su 2.53 e 3.13 complimenti 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 bene ragazzi cerco con la moto di raggiungere quelli davanti ecco la curva ecco il resto del gruppo questa è casa della Pinni ciao Pinni ciao ecco il resto del gruppo allora abbiamo appena lasciato la coda del gruppo composta da due velocisti che calcolano che sperano di arrivare entro il tempo massimo hanno calcolato di arrivare entro il tempo massimo e mi hanno dato mi hanno dato mi hanno dato una manciata di puntine da buttare davanti a questo gruppo allora qua abbiamo appena iniziato la salita dei Lumini vedo il gruppo molto allegro c'è un concorrente che si è tolto anche il casco quindi verrà squalificato da regolamento da regolamento poi ce n'è un altro lì alto non si capisce che ha uno specchietto addirittura e la davanti c'è il più forte naturalmente che è Max Costa Rui Costa lo specchietto che usa regolarmente quando si trucca esatto bene per il momento interrompiamo ah che rapporti state usando voi scalatori cazzo però siete degli scalatori scarsetti bene ciao ragazzi ci vediamo alla prossima ripresa ciao